Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi inauguro, ma non è che inauguro, in qualche modo rispolvero un format che non avevo avviato in maniera vera e propria, ma mi aveva portato un video estemporaneo, ovvero l'analisi del match tra Anders Bergang e Maestro. Stavolta invece ho pensato di farlo diventare un appuntamento settimanale, visto che me l'avete chiesto, e quindi diciamo che inauguriamo questa rubrica match analisi della settimana, e anche se un po' in ritardo, questa settimana ci andiamo ad analizzare un'altra partita di Anders Bergang, ma stavolta contro il campione del mondo Mo Obama Young, quindi una partita di assoluto cartello, che è avvenuta in un torneo con un prize pool di circa 3.000€, quindi non si giocavano neanche due spicci, tasso di competitività sicuramente molto 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 alto, e nulla, passiamo immediatamente sulla schermata in game, io intanto porto anche la mia magica lavagna tattica pronta per essere utilizzata, qualora dovessimo analizzare qualche situazione in maniera, insomma, un po' più estrosa, e iniziamo subito a stuccarci questo match. Ormai inutile che stiamo qui a parlare del ragazzino danese, che veramente a breve conosce anche mio padre, e non fa più notizia, insomma, questo piccolo campioncino, e veramente non vedo l'ora di poterlo vedere all'opera in tornei ufficiali. Vedete come il suo stile di gioco ormai abbiamo imparato a conoscerlo, col solito meme doppio passo sola, sola doppio passo, classica azione a partire dall'esterno, Mo Obama Young anche lui ovviamente con uno squadrone, vedete qui come cerca di arginare la manovra di Anders, che rispetto alla partita che abbiamo visto con Maestro, in queste prime battute di gioco va molto più ragionato a cercare di aprire la squadra con meno ignoranza, se vogliamo dire così, rispetto a come siamo abituati, cosa che invece non cambia è il suo stile di difesa altissimo, è il suo solito ripartire con doppi passi fulminei appena tocca palla. Guardate qui con Son come si invola verso la porta avversaria, saggiamente poi qui decide di rallentare, serie di doppi passi, palla al centro, subisce fallo. E quindi ha un calcio di rigore a suo favore. Sulla battuta ci va il buon Son che spiazza il buon Mo Obama Young per la rite che vale 1-0. Quello che però vi voglio far notare, e che vi ho fatto notare anche in quello che è il video dell'attacco, è il classico pattern. Cosiddetta scaletta, che ovviamente mettono in atto tutti. Come potete vedere vediamo un Son che si trova in questa posizione qua, ve lo evidenzio ma non c'è bisogno. E i giocatori sono già partiti alla volta di quella che è la scaletta. Ossia Neymar sta tagliando dal fuorigioco per rientrare qui e di conseguenza attirerà per forza di cosa quest'uomo fuori, liberando una possibile discesa di Son, cosa che poi effettivamente avviene. Ronaldo ha rallentato per non finire in fuorigioco e anche lui sta tornando indietro e questo Pogba ha fatto un ottimo inserimento e sta per tagliare alle spalle di Quadrado. Quindi lui che cosa fa? Giustamente abbiamo visto, si ferma, torna indietro con Son, aggredisce quello spazio che ha liberato con un doppio passo, dà palla dentro a Neymar con il buon Pogba che a questo punto sta venendo incontro, approfittando di questo ipotetico 1-2 fa un ulteriore doppio passo, dà palla a Pogba, poi succede quello che succede con questo rigore ma l'azione che genera il rigore è sempre la solita che abbiamo visto, quindi 1-0 per il giovane Anders al nono minuto, quindi parte subito a razzo, guardate qui come va a difendere alto, ma è anche un po' passivo e subito stavolta riparte con quella che è un'azione un po' più solita delle sue, guardate qui, serie di doppi passi, cerca questo cambio di gioco molto aggressivo e guardate qui la sua difesa dove ragazzi? La sua difesa, ve lo voglio far notare, quando perde palla, la sua difesa è tutta schierata sulla linea del centro campo, addirittura c'ha il terzino che è più alto e qui sotto c'è l'altro terzino che è esattamente in posizione speculare, quindi la sua difesa praticamente è a circa 40 metri dalla porta, 50 metri dalla porta che saranno, quindi vedete bene e rendetevi conto che se non avete uno stile di difesa del genere si fa fatica, guardate qui come switcha rapidamente tra i due dc, saggiamente li fa ritornare un po' più in posizione, rallenta un po' la manovra e baita un po' l'avversario, dire vai fammelo sto filtrante, tanto non te lo aggancia e di fatti è facile preda del portiere. Guardate lui come riparte, due passaggi nel cerchio di centro campo, filtrantone lungo, a bucare la difesa, serie di doppi passi, palla dentro, di prima la finta di tiro che vi ho spiegato e della quale è uscito anche il tutorial, poi il tiro viene rimpallato da un autoblock. Qui ovviamente è quello il problema, ossia vi esponete a quelli che sono magari lanci lunghi, ma era stato bravo a mettere in fuorigioco l'avversario, quindi anche in questa occasione si salva. Guardate come gioca lui, d'ignoranza, raga, 1-2, pam pam, senza troppi fronzoli tra le due punte, anche se ovviamente sa quando è il momento di rallentare, come l'abbiamo visto fare in precedenza, ma è bravissimo ad alternare, fasi di gioco più ragionate cercando la classica scaletta, fasi di gioco dove invece cerca un po' più di andare per dritto e riesce a sorprendere gli avversari. Guardate qua, qua subito palla sulla punta, si gira con molta calma, si appoggia su Pogba, altra fascia, aspetta gli inserimenti avversari, il classico solo a doppio passo. Guardate come ha liberato con un gioco di fascia da una fascia all'altra il suo esterno sulla fascia opposta, riparte dal terzino come vi ho fatto vedere anche io nel video, gioca con i centrocampisti per cercare l'imbucata dentro sulla punta. Qui mi punta Kullit, palla poi per Cristiano Ronaldo, gran parata, gran parata di Pope, ma ancora questa è un'azione gestita in maniera magistrale. Calcio d'angolo, battuto vicino come preferisco anche io, chiuso poi il buon Son da Walker, ma guardate qui lui con Semedo ragazzi, voglio farvi vedere questa switchata che lui mi fa su Semedo, perché lui qua ora mi perde, mi perde palla con Son sull'intervento di Walker, Walker ha praticamente la strada spianata sembra, guardate il movimento che lui fa con Semedo come un pazzo per andare a intercettare questa palla in questa zona, vediamo se bene o male ricordo la linea, guardate qua, esattamente lì, come un pazzo è uscito per andare a prendere questa palla col terzino invece di farlo scappare indietro, perché guardate qui, ogni azione sembra che sta per prendere gol per come è stata piazzata la sua squadra, ancora altissimo, ancora Mobameyang che guardate la fatica che fa ad uscire dalla sua area, guardate come deve cercare di lanciare palla, ma niente, 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 non ci riesce, perché la difesa di Anders è talmente alta che ti asfissia, ti invoglia a cercare quasi quella giocata un po' più rischiosa, ma niente, non ce la fai, qui apre benissimo la squadra di Mo e cerca anche questo passaggio filtrante senza però trovare fortuna e in 30 minuti Mobameyang non è riuscito a uscire praticamente dalla sua area di rigore, guardate come questo pressing asfissiante ha portato in maniera manuale switchando 820 giocatori al secondo senza sbagliare uno switch, guardate qui che palla alta che va recuperata ancora una volta con il terzino, classica azione con Ronaldo in zona centrale, cerca l'aiuto dell'esterno ma questo è un passaggio anche un po' sterile. Fermo un secondo perché voglio farvi notare come paradossalmente alcune giocate siano anche sbagliate, troppo frettolose, ma è il suo stile di gioco, quando vi dico io, ognuno deve trovare quello che è il proprio stile di gioco, certo rubacchiare qualche segreto generale, ma senza strafare, perché comunque bene o male bisogna avere una propria identità, guardate qui lui come rincorre con l'esterno, rincorre, 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 e gli recupera un'altra volta palla, commettendo un fallo un po' così, sappiamo gli arbitri come sono, ma aveva recuperato un altro pallone sul povero Mobameang che in 32 minuti è in totale balia, guardate qui come arriva sempre in raddoppio su ogni giocatore, raddoppi manuali, guardate come si porta via gli uomini in pressione. Sto Varane, raga, voi mi dovete vedere st'intervento di Varane, Varane che mi va a seguire Gullit in questa zona qui, all'improvviso Varane mi si materializza lasciando un buco in questa zona, ma non importa, perché Varane arrivando qui, lui leggendo perfettamente l'azione mi va a intercettare palla, guardate, lui rimane buco, lui mi seleziona Varane, arriva da dietro e me la prende, è veramente una roba atroce. Qui Mo cerca di temporeggiare il limite dell'aria, ma lui è bravissimo con dei selli a seguire la corsa, anche fortunato nel rimpallo, ma guardate lui come non ha bocca alle finte, e comunque chiude l'angolo di tiro a Ronaldo che da lì non poteva fare altro che sperare, solo in una deviazione fortunata perché l'angolo di tiro era troppo ridotto. Qui si gioca la classica azione in fascia con l'esterno ad aggredire campo, e guardate qui come con questo ribaltamento di campo è subito in superiorità numerica, poi saggiamente decide di ritornare indietro, ragazzi, rete quasi del 2-0, ma rete quasi del 2-0 che nasce dalla classica scaletta. Son in zona fascia, torna dietro sul centrocampista, palla dentro sul centrocampista, con il movimento di Neymar che da dentro inizia a venire fuori, come vi ho fatto vedere un miliardo di volte, Ronaldo che si butta dentro, Neymar porta via l'uomo, doppio passo tiro, traversa, ancora una volta azione costruita nella medesima maniera, ragazzi, ve l'ho fatta vedere anche nel tutorial dell'attacco, e come vedete è un pattern che viene ripetuto di video in video, e guardatemi qui questo recupero, cioè lui mi fa una switchata preventiva assurda, perché qui è in copertura con Ronaldo, capisce che il quadrato si deve liberare di sta palla, e mi switch immediatamente, guardate qui, boom, a coprire immediatamente l'azione sviluppata da Moba Meang, che fa una fatica folle a uscire dall'aria di rigore. Recupero palla altissimo, palla dentro verso Neymar, rete del 2-0. Voi direte, questo è un gol fortunato per niente, questo non è un gol fortunato perché ha vinto quel rimpallo, lui se l'è costruito questo gol con questa pressione asfissiante, ha messo in difficoltà, Moba Meang, che mi perde palla lì, e quindi si ritrova poi a tu per tu Neymar, e mette dentro la rete del 2-0, una partita che fino ad ora è anche più assurda rispetto a quella giocata contro Maestro, perché veramente è un dominio territoriale allucinante. Guarda qui, ancora una volta, palla sul Ronaldo, solito scarico punta centrocampista, se ne va ottimamente con questa finta di tiro, Moba Meang in piena difficoltà, non sa bene cosa fare, qui classico doppio passo che però non va a buon fine. E finisce qui il primo tempo sul risultato di 2-0, con totale supremazia da parte di Anders, sia in attacco che in difesa, nonostante in difesa abbiamo visto come abbia lasciato tantissimi buchi, ma buchi che fondamentalmente sono stati tappati in maniera ottimale. Riparte dunque il match, e come potete vedere, ancora una volta, l'azione è quella tipica, è quella classica, con la palla che dall'avanti va all'indietro, dalla fascia va verso l'interno, vedete come cerca dentro il movimento di Neymar, che si punta l'avversario, si speedboosta col bridge, se la alza, ragazzi miei, quando giochi con questa libertà mentale per divertirti viene tutto più facile. Guardate qui come lui però approfitta, del fatto che il Mobameyang con Neymar sia un po' pigro, ha paura di aggredirlo fino in fondo. Varane deve assolutamente coprire questa zona, inizia a seguirlo, mi sbaglia, qua secondo me questa switchata era inutile, mi rimani su Varane, qui non mi switchi su Davis, con Davis non ci fa niente, infatti a breve riswitcherà sicuro su Varane, anzi no, stranamente, infatti qui, vi ripeto, errore per me da parte di Mobameyang, che lascia campo a questo bridge, mi switcha tardi, una volta che Neymar può tranquillamente fare praticamente skill per liberarsi ulteriormente, quindi lui che cosa fa? Si borrolla, borrolla sul piede debole, se la alza per mandare a vuoto Varane, che gli rimane dietro e mette dentro la rete del 3-0, questo un gol assurdo, tutto estro e sregolatezza, però se dobbiamo trovare, secondo me, un piccolo difettuccio, lì Mobameyang, poteva tranquillamente rimanere con Varane, piuttosto che cercarmi con la switchata su Davis. E guardate qui, ancora una volta, il suo stile di difesa, come lo va a premiare, perché quest'uscita con Mendy per me è un'uscita da pazzo criminale, questa qui, aspettate che ve la faccio vedere. Guardate qui, lui con quadrato mi cerca Ronaldo, quest'uscita qui con Mendy è assolutamente da pazzo criminale, perché deve costringere poi Virgil a uscire, Varane a uscire in zona laterale, lasciando un possibile buco al centro, ma lui improvvisamente con la sua rapidità si ritrova in una situazione di 3-2 e recupera palla proprio con Mendy, che era rimasto indietro. Con una calma olimpica si gestisce questo pallone, sempre lanciando l'avversario in fascia, quantità di doppi passi clamorosa, apre in due la difesa di Mobameyang, finta per prendere campo, classica suola per liberare spazio sul tiro, e questo è un altro gol che non nasce da un'azione d'attacco chissà che manovrata, ma da un contropiede letale in seguito a una palla recuperata alta in difesa. Come vi ho spiegato mille volte, spesso e volentieri i gol non nascono da una manovra offensiva avvolgente, ma da un recupero palla fatto molto bene. Guardate qui questo ancora una volta, il suo Varane dov'è? Così, portato per le terre, a dare fastidio anche se magari in questa situazione è un po' superfluo. Mi switcha ancora una volta tra Pogba e Varane, e con Varane lui già mi si è andato a mettere davanti al ricevitore palla. Mi recupera ancora una volta l'ennesimo passaggio e ancora una volta riparte col solito pattern offensivo, Dambappé verso Ronaldo, cerca di scambiare il più possibile. Qui secondo me poteva appoggiarsi più al terzino che all'altro giocatore. Ronaldo punta Varane, ma ancora una volta la copertura difensiva è assurda, è fatta con tutti i tempi precisi. Comunque nota a margine, se vedete che nei video uso sempre questa felpa è perché le ho registrati quasi tutti nello stesso giorno, visto che sarò via a Milano. Non è che non mi lavo. Aperto e chiuso a parentesi. Qui intanto ancora una volta, palla che è dal centro, arriva sull'esterno, crocchetta annullata. Poi mezzo palleggio, palla dentro sul Neymar ancora. Ci mostra come comunque giochi anche tanto per divertirsi, ovviamente, come è giusto che sia. Guarda qui dove è il portiere! Guardate qui dove è il portiere! Lui capisce la situazione. Voi lo dovete vedere dal radar, raga. Lo dovete vedere dal radar. Lui mi perde palla. Quando è in questa situazione, lui già capisce che la palla può finire... può finire sul lancio lungo. E voi guardate il portiere qua. È già praticamente fuori area. Lui già me l'ha iniziato a fare uscire. Guardate poi il movimento del portiere. Vi evidenzio qua, così andate a seguire il pallino. Guardate il movimento del portiere sul lancio, eh? Non dopo che la palla è arrivata. Guardate qua. Guardate il portiere dove arriva. Assurdo. Veramente assurdo. Questa è stata una lettura difensiva clamorosa. Perché altrimenti si sarebbe ritrovato praticamente a tu per tu. Ma veramente folle il fatto che Mobameyang risulti così totalmente in palla di un avversario che fino ad ora non gli ha veramente concesso spazio per pensare. Ancora una volta recuperò palla alto. Palla su Pogba, lancio lungo nella zona di Mbappé. Forse troppo lungo, è già. Però ancora una volta classica giocata sull'esterno. Qua Mobameyang mi mette pausa perché giustamente non sapeva più che madonne appellarsi per cercare di ribaltare questa partita. Ed entra Kimi al posto di Walker addirittura. 64esimo minuto. Palla allargata. Guardate qui ancora una volta come la sua uscita con Semedo alta gli abbia creato qualche grattacapo. Lui player locca. Con De Sely me la recupera su sto passaggio di Mobameyang. Mobameyang veramente nel pallone più totale. Ma più che perde meriti sui, per meriti assurdi di Anders che veramente lo sta annullando. Qui ottimo. La palla sul taglio di Ronaldo è anche buona la giocata del pallonetto che purtroppo non sorprende il portiere. E guardate come Mobameyang è costretto a dover giocare tutto di prima per cercare di uscire da questa rete di pressing assurdo. Ancora una volta. Mendy che recupera palla praticamente sulla linea del centrocampo. Palla dentro con questo contropiede su Mbappé. Neymar. Palla ancora per Ronaldo. Mezzo doppio passo. Rete. 5-0 in 70 minuti. A un campione del mondo da parte di un ragazzino di 14 anni. Che non smette di stupire. Non smette di stupire non tanto per i risultati ma per come arrivano. Cioè questa è una partita davvero da manuale di FIFA. Guardate qui ancora una volta come con Blank legge perfettamente l'azione. Due-tre passaggi. Boom. Si ritrova con i due attaccanti pronti ad aggredire il campo di Mobameyang. Ancora una volta suola. E palla dentro. Con la rete del 6-0 con un Mobameyang che inizia anche a palleggiare. Perché ovviamente dice... Zia miseria sto pure in live. Fiora in mea che sto a fa. E infatti era anche live. Insomma non è che ci abbia fatto proprio questa figurona. Però davanti a un mostro del genere c'è solamente che è da togliersi il cappello. O il cappuccio in questo caso. Che non mi tolgo che ho dei capelli pietosi. Qua mi fa anche un rilancio un po' ambiguo. Palla poi verso Davis. Guardate come switch 887 giocatori allo stesso momento. Palla poi verso Pogba con un altro recupero palla. E guardate qua come si ritrovava nuovamente in quella situazione di 3 contro 2 a campo aperto. Mobameyang ancora una volta subisce questa pressione di Anders clamorosa. Palla poi dentro nella zona di Neymar. Troppo lunga. Per quello che sarebbe stato addirittura il 7-0. Mo diciamo che cerca di leccarsi un po' le ferite come può. Cerca di amministrare un po' il pallone. Palla ancora dentro. Lunga chiusa ancora da quel Varane che praticamente fa il mediano aggiunto. È come se giocasse con 3 mediani e 3 difensori per come si alza quel Varane. Ancora Blank. A mettere le cose in chiaro su quell'R9 che è stato bullizzato al momento per 81 minuti. Ancora una volta un recupero impeccabile con una switchata clamorosa. E palla che va sempre verso Mbappé. Pattern tipico. Doppi passi. Lo sappiamo. Suola. Ronaldo che rientra dal fuorigioco. Vertice alto. Per sfruttare dentro il movimento di Neymar. Buoni numeri nell'1v1. Qui ottima però la chiusura di Mobameyang che stavolta non si lascia... Non ha bocca alle skill. Poi lancio lungo ancora una volta totalmente inutile. Qua con un doppio passo in mezzo al campo apre totalmente la squadra di Mo. Si ritrova Mbappé sul palo largo e butta dentro la rete del 7-0 con Mobameyang che continua a palleggiare. In preda frustrazione più totale perché vedremo le statistiche anche se ce ne siamo resi conto. Non ha fatto nulla. Ma soprattutto non è che non ha fatto nulla. Non ha mai dato l'impressione di poter essere pericoloso. Cioè è stato completamente annullato da una prestazione maiuscola. Credo che sia una delle prestazioni più dominanti che io abbia visto negli ultimi anni su questo videogioco. Ancora Pogba che recupera palla altissimo. Palla allargata poi in fascia verso Mendy. Un bridge qua un po' inutile. Skill insomma un po' a caso perché comunque anche è un bimbo. E gli piace divertirsi e dirretire un po' l'avversario. Insomma partita che si conclude così sul 7-0. Cioè è una cosa allucinante. E ragazzi niente. Quindi per sto video è assurdo. Guardate la 13 tiri contro 1 arrivato un attimino in maniera un po' esotica. Veramente distrutto e demolito. E nada. Spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi. Spero che questa serie vi possa intrattenere. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti. Lasciate un bel like. Vi ricordo che serve. Iscrivetevi anche perché stiamo crescendo bene. E ne sono stra felice. E inutile ragazzi. Io vi saluto. Vi auguro una buona giornata. Ciao ciao.